Si è dovuto ricorrere agli uomini della protezione civile della Croce Blu di Gromo per pompare acqua necessaria a rifornire le abitazioni della contrada Foppi a Gandellino. Il tutto è iniziato nella giornata di mercoledì, quando i rubinetti sono rimasti all'asciutto. Segnalato il fatto all'amministrazione comunale, dopo il sopralluogo al bacino di accumulo, si è potuto verificare la quasi inesistenza di acqua derivata da ragioni ancora non chiare. Potrebbe trattarsi di una rottura della tubazione, che proviene dalla sorgente, oppure del gelo della notte che avrebbe ridotto al minimo la gettata d'acqua della stessa. I volontari guidati dal coordinatore Valerio Zucchelli, una volta raggiunto il piazzale della contrada Foppi, con i propri mezzi dotati di contenitori, stese le manichette per una lunghezza di 180 metri, hanno iniziato a pompare acqua all'interno del bacino di accumulo. Si parla di circa 26 mila litri dei 60 metri cubi di portata complessiva della vasca. L'utilizzo dell'acqua è però limitato a solo uso igienico. Un'ordinanza firma del vice sindaco Nicoletta Santini ne vieta l'utilizzo alimentare, se non dopo bollitura, di almeno 20-25 minuti. La zona continua ad essere monitorata. Gli uomini della Croce Blu di Gromo sono rimasti sul posto fino a tarda serata, per tornare nuovamente oggi a verificare la situazione. Grazie.